Buonasera a tutti e benvenuti. Il governo incassa la fiducia, ovvero la mozione di sfiducia nei confronti del governo provocata dal comportamento del ministro di grazia e giustizia Bonafede non passa e pertanto si prosegue con quella che è l'attività di governo, con quelli che saranno i prossimi appuntamenti sia dal punto di vista economico, istituzionale, di emergenza sanitaria e via così. Discussione vi è stata anche fra le diverse anime della maggioranza, quindi abbiamo un partito democratico, abbiamo un Movimento 5 Stelle a difesa dell'operato del ministro, anche l'EU se non sbaglio e Italia Viva sino all'ultimo momento in posizione attendista, vi sono stati vari contatti fra vari rappresentanti di questo partito con autorità del governo, dicevo anche Italia Viva con un discorso che Renzi ha considerato e anticipato come uno dei suoi più difficili insomma per questa carriera politica, dicevo anche Italia Viva si accoda a non richiedere la sfiducia e a sostenere il ministro Bonafede. E vabbè diciamo che da un punto di vista pseudo politico anche per persone che non ne capiscono nulla ce lo si aspettava, alla fin fine ci si aspettava un accordo quale non lo vogliamo sapere raggiunto fra chi tentennava sulla fiducia e sulla sfiducia e di il governo. Entriamo in questioni di politica ed entriamo nei meandri di quelli che possono essere comunque ragionamenti politico istituzionali vari che davvero nemmeno voglio sapere. Ero certo comunque della fiducia a questo governo perché poi alla fin fine si va avanti così, no elezioni, no tutto il resto, unità nazionale per la maggioranza e via a fronteggiare l'emergenza. Quello che voglio dire banalmente è questo, il ministro della giustizia Alfonso Bonafede sicuramente è uomo che io posso anche tra virgolette contestare sotto alcuni profili giuridici per quanto riguarda l'avvocatura o il processo penale ma sono questioni anche note e ci sono battaglie politiche giuridiche in questo senso ma sicuramente è persona di buona fede, è persona sicuramente retta e onesta per quello che è il compito che gli è stato affidato. Ribadisco non mi piace dal punto di vista di certe scelte decisionali, dal punto di vista di certe visioni dell'avvocatura e della giustizia ma mai posso pensare ad un uomo in mala fede o legato ai clan mafiosi o succube dei clan mafiosi. Questo è talmente grande come accusa e come infamia che nemmeno davvero personalmente riesco a pensarlo e non lo voglio difendere perché non è mia intenzione difenderlo. Dico solo che se si voleva arrivare ad una sfiducia per il governo sulla base di questi presupposti signori miei non sono questi i presupposti che dobbiamo cercare o che deve cercare l'opposizione per arrivare ad una sfiducia da parte del governo e dei propri rappresentanti. Sì sicuramente ci sono state delle sbavature, delle leggerezze, delle superficialità, delle valutazioni forse frittolose su tanti aspetti che poi hanno portato alla richiesta di mozione e di sfiducia. Discutiamo su quelli, discutiamo se un ministro della giustizia debba essere censurato per questo ma puntare il dito come ad un uomo delle mafie, veramente è assurdo. Dall'altro lato non entro nella polemica con il magistrato Di Matteo che comunque ha innescato questa querelle con il ministro per quanto riguarda il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il fatto di essere in viso a uomini della mafia, il fatto innegabile di essere galantuomo quale magistrato, vive sotto scorta se non ero dal 1993, è uomo che si è occupato anche di quella presunta trattativa stato-mafia, nulla da dire sulla mala fede anche del magistrato Di Matteo. Nessuno dei due lo è stato. Quello che posso dire per quanto riguarda questa vicenda è che sicuramente non doveva essere trattata in televisione, non doveva essere trattata in un programma televisivo, con un racconto, con le polemiche che ne sono derivate. Stiamo parlando di due persone sicuramente rette, capaci, professionalmente in grado di mantenere la propria funzione. Perché buttarla tutta in un battaggio televisivo? Perché buttarla tutta in una polemica? Perché idulcorare con la questione della mafia che è in grado di usare come burattini l'uno o l'altro? Ma per quale motivo? Per avere una sfiducia che poi non è stata data? Per aver agevolato trattative che si potevano anche non agevolare? Se il governo lavora bene, se il governo non lavora facciamolo cadere, ma non con questi mezzi e non buttando fango su questioni che poi inevitabilmente vanno a finire nel nulla. Grazie.